Primo spettacolo La collaborazione con Danti è avvenuta grazie al mio, mi piace definirlo, mentore carissimo amico d'Argent Amico che essendo amico fraterno di Danti me l'ha presentato quando il mio progetto era ancora in fase embrionale però questo pezzo in particolare era già pronto non c'erano ancora tutti i pezzi pronti del disco però questo c'era gli piacque molto e quindi spontaneamente è nata questa collaborazione e sia lui che anche Marrakesh che è l'altro featuring che c'è nel disco devo dire che sono stati veramente molto fiduciosi nei miei confronti oltre che molto carini e gentili e disponibili perché quando ci siamo conosciuti io non avevo fatto nulla ancora quindi hanno avuto una grossa fiducia e anche una grossa capacità di spalmarsi sul brano senza prendere il proscenio e restando comunque molto in tema col brano Senti molte delle tue canzoni hai detto e comunque si sente ascoltandole nascono da la tua vita semplicemente anche da piccole cose dopo sentiremo una canzone che si chiama Le labbra screpolate oppure anche da cose più importanti come storie d'amore insomma c'è molto di te in quello che racconti sì c'è solo solo te c'è solo di me poi capitano dei casi particolari tipo il pezzo che abbiamo appena ascoltato in realtà è un caso unico nel senso che ho immaginato di essere e di vivere l'esperienza che appartiene più ad un mio carissimo amico che è quello un po' che ha originato tutto questo progetto un chitarrista molto bravo di Palermo che si chiama Anfredi Tuminello già che ci siamo che fece ascoltare le mie cose al mio attuale manager che è anche il manager di Dargen D'Amico e che è quello che chiude questo disco sull'assolo del pezzo finale che si chiama Come Stai lui ha sempre avuto il coraggio di partire per andare a inseguire il suo sogno quindi suonare è andato a Bologna prima da Palermo poi è tornato a Palermo poi è andato a Londra ed è una cosa che io gli ho sempre invidiato molto questo coraggio di riuscire a prendere e andare senza avere paura grazie a tutti